Sindaco, allora pensiamo alla Santa e non pensiamo alle polemiche almeno per un giorno? No, e vabbè, come si va a pensare alle polemiche e alle beghe di villaggio in questo giorno? Santa Restituta, tra l'altro, è l'unica cosa che mette d'accordo tutti, almeno per questi tre giorni. Poi da 19 a Guelfi e Chibellini.